L'impegno e il lavoro di 70 anni di cooperazione internazionale nel continente africano. Da Palazzo Madama, sede del Senato, è stato lanciato l'appuntamento di sabato prossimo a Padova con l'annual meeting di medici con l'Africa che si svolgerà al Gran Teatro Geox. Un traguardo importante, un'occasione, come spiegano dal QAM, per condividere con istituzioni, società civile, persone comuni, amici e sostenitori, i traguardi raggiunti e i risultati ottenuti e insieme rilanciare su nuove importanti sfide per la salute dell'Africa e in particolare delle fasce più fragili e bisognose, le mamme e i bambini. Si apre al mondo, in modo particolare al mondo dell'Africa e soprattutto a chi in questi 70 anni ha dato il proprio tempo, il proprio cuore, la propria anima, il proprio amore, la propria professionalità per salvare e aiutare gli altri. Ripartire sarà il filo conduttore dell'appuntamento annuale. Il direttore Don Dante Carraro nel ringraziare ha ricordato uno dei focus principali dell'intervento del QAM in Africa. Prima le mamme e i bambini, 10 ospedali coinvolti, 8 paesi, obiettivo 320.000 mamme da assistere nel parto e altrettanti bambini. Un obiettivo importante raggiunto e superato nonostante il grave problema del Covid, un sostegno che deve continuare. Per chiedere all'istituzione di fare tutto il possibile. C'è stato recentemente il G20, c'è stato un impegno forte del primo ministro, del premier Draghi e della comunità internazionale a raggiungere il 40% delle vaccinazioni entro il 2021 e il 70% entro il metà del 2022. Per l'Africa sarà difficilissimo raggiungerlo, però l'impegno c'è e io sono qua anche a chiedere le istituzioni di fare tutto il possibile per raggiungere questi bettivi anche per il continente africano. Appuntamento quindi all'annual meeting insieme a gente comune e istituzioni in un'unica grande voce che vuole parlare dell'Africa e metterla al centro dell'attenzione di tutti, l'Africa come autrice del proprio futuro e destino.